il mio telefono sta sullo scottex ma se mi mettissi a giocare al computer ma perché boh ma insomma come lo vuoi non c'ho mai tempo no ma come ti pare non lo so però mi hai rotto i maccanni per giocare al computer non ho capito chi stai a dire io ma che stai di te ok sono con voi ragazzi scusate stavo rispondendo a cose importanti grazie amore guarda che infame questa colpisce al cuore ti ho già lavato i pomodori e che facciamo e litighiamo no non mi va manca a me bene siamo amici come prima amici sapete che noi non abbiamo mai litigato giura ma quando abbiamo mai litigato noi non vero mai cioè un periodo ma quando ne odiavi ma qua ah no però non abbiamo litigato e non ti odiavo per due giorni ti odiavo ah 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 vabbè che tardi ma guarda questa quella cosa cioè quei litigioni hanno aiutato a raffreddare il nostro rapporto fantastico lo sai dire si lele sta delirando ma che ha fatto a star tutti contro lele amore mi sa che cosettino verde? no coi denti fa schifo amore non amo sapere mi schifo basta i pomodori perché non mi fa usare il telefono perché devo fare live so tanto se devi rispondere a Aurora non puoi usare ma Aurora fannine e allora non puoi usarlo dovevi rispondere a lei si ma se no 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 t'è buono no t'è buonissimo i si ah bellissimo com'è ah bellissimo che dice? parlo bueno sono malissimo parlo malo levati un po' dove una cosa è così il ttok dovrei andare via alla fine parlo non è come un po' di tre mettilo un po' in frigo vita mia ti amo mamma mia grazie fai la prima non è vero quanti stronzare dei vici non ce la facevi più a stare senza di me vero amore Senti un po' dammi Che cazzo me la fetta di pane Mamma mia No vabbè ragazzi Questo lo sta a fare male Ma dai Mi faccio un pistolito Stiamo scherzando Ma poi vi pare una cosa del genere Si è visto che io ho spiaccigato Stavo qui E gli fa l'ora Che era quel verso Gli animali di Lo sai che vorrei giocare insieme adesso All'intento switch Ancelo Ha il giochetto delle battaglie Quello che facevamo sempre Quello che avrebbe fatto l'unione E funzionato Noi forse Eh che c'era davvero la rotta Quello che avevo regalato nel compleanno Vorrei ricordarti Che amici fantastici Ti mi hai regalato stanno al compleanno Un cazzo Io manco mi hai fatto regalare un cazzo al compleanno Si mi hai regalato la La felpa di Ah borco 2 Ma no borco 2 Ti l'ho regalata Si Tu e Diego Diego amatizzava il menge E se tu l'ho fatto Ma sempre Ah c'è tua Ma perché io ti ho fatto il regalo del merdo E ti abbiamo comprato la nintendo switch No 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 Vabbè vorrei precisare Se non la gente pensa che ti sei meglio come la giro Ma quando io non ho fatto Non mi hai regalato No t'è buono no T'è buonissimo Ah si Ah bellissimo Ah bellissimo Che dice Ah Dice a bellissimo Si Che dice a te a bello Me dice a me a bellissimo A bello A bello Ma vieni la sedia Che c'è piatto un mamma Ma so ne è però La tetta di culo Non è giusto Anche per te No Dai ma Non mi devi rompere E che a lei le vuole che la diretta mi vuole far volare Perché senti quella persona così Ma non è vero Si si è vero Ma in realtà è un botto È un faggionale Ci stanno Però a falla È 4 di madina Madina? A me Sì Sì Buon strano Senti io faccio una partitella A che? A LOL No vabbè no Quello Che 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 se devi beccare qualcuno che trovi di vacca ma io non mangiarti i colletti beh prima di beccarare faccio amore guarda infatti io ho già mangiato i colletti io ho già dalle cipolle amore in realtà è l'aglio pure la cipolla fa cacà cioè io tipo se te mangi i genetri di cipolla non te lo avvicinare oh che cazzo stai con me ha qua? vai a far mangiarla ma una cosa devi a tutto il tavolo? che spazio riservi del tavolo? mi dacci che palle non c'hai fatto oggi l'hai voluto e mangiava i colletti vuoti no te buona no te buonissimo non ti lo fa ma dice è bellissimo non mi ricordo cosa dice mi rompe i colloni cercatelo su internet fai niente lo te la prende non posso no te prima te l'aiuto no te buono no e sto è buonissimo no che cosa è no te buono no te buono no no tu è buonissimo e si? aperissimo aperissimo parlo buono sono malissimo parlo malo sono buonissimo come pensavo io no te buono no è buonissimo si è benissimo aperissimo 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 sprint dove state? fatti che ci domani a casa a casa mia lei l'hai preso in realtà sono io che l'ho presa a lei così poi dite che io non sono l'amica migliore del mondo vedete anche questo? è l'amica migliore del mondo non so ma fai mi hanno toccato cucinare un po' lì guardate a comprare buonarcar for 24 ore è disaperto e fa mesurese in bocca chiedi in bocca il bolletto oh si sono pure le 4 di mattina io mi sono fatta una pennica oggi come? barco che bella teo io mi sono una pennica la fanno la fanno ma lo noti che c'è il labbro sopra più chiaro di quello sotto il colore guarda si è vero questo qua è più fucsia fastidiosissimo però ma non è c'è ma lì non ci faccio caso no perché guarda da sotto no bravo così si scompare è più fucsia ti riempie a fare cosa rimpolpante per no rimpolpite cosa c'è nel senso ma siete fidanzati senti questo la vischia la mia è una sorca e sta a Roma e noi siamo bf f fuori efa perché perché bf è boyfriends no bf a bf da amore eh diciamo sozzeria bella sono i nostri sono le 5 e 31 bella bella mio fratello o mi sorella non lo so tu sorella mi sorella però come senso tu sorella povera auri che c'entra auri amore mio come è stata la partita raga non ho mai il momento ah ho già stata tutta tutto il tempo raga sei vista tutta così stato infiato sei guardata cioè stava raga c'è qualcuno di odore di voi la simpatico qui stavo con driago poi ci divento pure io che c'entra con driago tipo sempre ogni volta a zai sì bella la partita gli è piaciuta ma l'ha fatto l'ha vista tutta lo so quando hanno segnato ma di ma il gol ha fatto vabbè gioia non è cuore nero però cosa giozuele cuore nero no giozuele non è cuore non è cuore blu vorrei sapere come ho scelto i cuori per loro prendendo la cosa di cuore di tipo stava facendo così e scegliendo quale è quando ho scelto i cuori per voi non sai quando li scelti all'evento quello di twin set a parte il giorno che già ce l'aveva secondo me l'ho scelto in là se non sbaglio e venivo vicino alla faccia di voi con la cosa del telefono e vedevo che colore vi si adiceva di più di cuore e perché di aveva giallo boh mi ispirava di giallo di ago c'è anche un borto viola ci stanno volare i giotti dietro di voi te facci il me giro ciao raga ciao che cazzo ci sta qualcuno poco 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 ci sta qualcuno zosi sta a mangiare polletti fake raga però io infatti non li considero polletti come li consideri spuntino che si mangia ah ok stasera che si mangiamo o spuntino che si mangia stasera de soia eh si che l'ha messo a mangiare la soia non mi sto mangiare i polletti infatti tu che dici mamma mia oh eh e dai st'allargare ascii vostra c'hai ragione al finestra da pelato sei un gran sorco raga vi prego guarda guardami ho fatto una foto non ti ho fatta vedere si guarda non è gelosa ma così no ma si fa vedere ma poi ti mancano i capelli corti no sei abituato a sto giuffone ma di te mi stanno male i capelli corti non mi stanno male appunto dico manca di che c'è però in realtà io guarda guarda quanto è scoperta che figo questo no no ti si fa vedere no sta meglio così sembri un pedofilo pelato martacci ma gli altri ma che ne so non di cazzo mi frega da stanno beh c'è poco sonno lui lei adesso non puoi termini a 3,36 perché da grande ti è andato pelato mi nonno ha i capelli l'altro mio nonno pure mi padre pure che so l'unico stronzo speriamo di no teoria no l'uovo di Shrek ha detto e qual è? boh è uguale cerca l'uovo di Shrek no sta su youtube ma scusa no no c'è poco qua cerca l'uovo di Shrek perché c'è pio un po' perché c'è pio un po'? ti ho messo l'acqua in frigo ti ho messo l'acqua in frigo perché ti fai meglio mua ma è appia no mua mi ha rotto pure mezzo al cazzo dai ho uno gli altri mi spacco zo ma io ti ho chiesto una cosa sola grazie amore a fa' un culo no non si dicono queste cose gli amici amore tutto a posto io non so piegherò io sono stanco è diverso tutte cazzate tutte scuse è vero no lei le schiavano dentro un po' vero? no minimamente amore anzi regà non mi fa mai un favore mai mai gli ho preso il pollo gli ho messo a posto i pomodori gli ho messo a posto gli ho preso l'olio gli ho rimesso a posto gli ho preso l'acqua e il cameriere c'è la capitale signorina oggi che ti ha cucinato perchè ci hai da me mi cucini tu bene allora dica è reciproca la cosa è reciproca ok grazie ok grazie regà regà mi metti l'acqua in frigo ma molti ma l'ha di ribetina ma l'ha manca da beve te ma che te prega no mi ha fatto si sta a mezzo al cazzo Sai perché lo stai in frigo? Perché me la bevo, guarda un'altra perfora e fede. Non hai capito cosa ho detto? Però sta a mezza a cazzo. Non hai capito cosa ho detto? Quella sta a mezza a cazzo. Ha sempre due. No, è gasata. È gasata. È gasata. Allora le metti in mostra le mani così, Diana la siamo felici. Ma c'è questo problema con le mani? Come vedete? Non so la mia forma, cioè non so la forma che piace a me. Sono brutte? No, non sono brutte. Però io ho la fissa di una forma di mani. Qual è? Simile a quella di Gianna. E che c'hanno? Poi c'hanno una forma diversa, però non so quello che è già simile a quella. La forma più bella di mani che ci sia per me. Ma ti fai felici delle mani? No, però guardo. Cioè, non è che faccio tipo, oh, mi piace di farmi dare le mani. Però, in realtà devo stare a fare una cosa con la mano così e via. Cioè, da qualità la vedo. Adesso c'è una cosa che mi dà fastidio questo. Tuo? No, qui c'è un camion. C'è un camion. C'è un camion. C'è un camion. Dai, guarda, è gigante. È gigante, sì. Riesci alla mano, mi va con fastidio. Emanuele ti hanno chiamato. Saranno arrabbiati. Ha scritto Emanuele, ti giuro. Sì, guarda il camion. Ma che cazzo domande fa? Andiamo. Guarda gli occhi verdi, quindi. Controlla un po'. Si... Porca Peppa. Guarda lo flash bene Col flash ti senti male Qui è la prova del 9 Sono fuori verdi dentro marroni Belli Particolari Io li chiamo Muschio Vero un po' c'è sto mia Ma che sai di che marrone è il muschio? È mezzo marrone e mezzo verde Guarda un po' Te lo ciocco? Perché c'è un po' di filamenti marroni Vedi Beh se sta attaccato In cazzo di Qua non c'è più No qua è verde E allora palude Ma che vuol dire palude? Questa è la palude Eccolo Boh l'ambiente Boh io l'ambiente mi immagino Capito? Mezzo marrone e mezzo verde L'ambiente? Dai ho un colore che è al centro L'ambiente L'ambiente Consuelo La palude La palude si è zozza e marrone Sai comunque una palude ma non è zozza Eh però C'è schifo Che gli occhi zozzi Il tevere Ecco questo Il tevere Mettaci Fammi di due Da merda Regà è un pezzo di merda infame Io li vedo sono verdi Guarda come Dicono la verità No da qui in realtà sono marrone Posso chiederti una domanda Come ci sei arrivato all'Ubby Oh No vabbè Oh guarda Guarda è roba strana C'ho un puntino sotto Lo vedi? No Dai Sotto l'occhio Qua? Eh No no Non è il bianco Qua? Eh Lo vedi c'è un puntino nero Sotto al Alla dentro? Eh Sì Assurdo eh Assurdo Io? Pure se c'è non si vede No e tu sono chiari dei occhi eh Sono nocciola i miei No sono chiari Con un aurora Però i miei sono intensi Lele ma cazzo dici lol Cosa? Ma ne spai realmente tante Vabbè Passi tu questo? Faccio io Faccio io Potevi anche dirmi tranquilla Ci penso io eh Che vuol dire cosa dici? Che ho detto? Ma che ne so Ma non ho scritto Che cazzo dici? Oh no Non è una cosa nuova Insomma Ce ne stiamo accorti tutti E quindi Beh mancavoli pure a me Sto male No No Non mi la posso male Pure a me Sto male Dei te travesti? E le? Ma te che mi travesto? La tunica ti metti? Sì io sai che mi metto Guarda, due tetti Guarda cosa I commenti Che cosa sono? Due tetti Non sono così i tetti A me non viene Guarda amore Ce l'ho proprio troppo grande io Però sotto ce l'hai enorme Vé? Sì Ce l'abbiamo sempre l'abbè noi, vé? Sì Vé? Porca Peppa Oh, che è? Non so, con un malo orecchio Perché questo è uno psicopatico Callua Ma ben cazzo, se muore di freddo in realtà No, io sto a crevare di callua Ben cazzo di tua, non pu' azzardarsi al condizionale Perché mi muore di freddo Manca una copertina ci sta Ma lei le sopra sono più sottili Che è? Eh? Eh? Mi ha detto Benissimo I sì Aperissimo Allo bene Devi continuare L'eddio Oh, io posso fare una stanco, basta. Stanno anche una cifra pure io, che fama? Andiamo a dormire. Sì. Dormire tipo un tot. Un'ora. Ah, tu hai il braccio sbragato da qua. Vieni pure io. Anche due. Ho troppo spazietto, dove c'è un po' di roba qua in mezzo. Questo è voto, guardalo, c'è soltanto questo qui. Lui c'ha questo, c'ha questo, c'ha questo. Oh, amo. Io va a canno. Massa, manca a diglielo così, però è cattiveria, ti giuro, eh. Siamo una famiglia, se capivo quando scherzavo. Io stacco, raga, sono un po' stanco. Oh, cominciamo. Sono un po' stanco. Volevamo salutarvi. Cioè avete visto cucinare, cioè l'avete visto cucinare, ma avete visto... Io volevo fare una diretta, quindi ma non me la faceva fare, quindi ho sotto il telefono di Lely. Io schiavizzato, lei ha cucinato, ha maniato, manco mi ha offerto un pezzo. Perché se volevi te lo cifre. Stacco. Se rivediamo presto. Ehm... Vabbè. Un kiss. Un kiss. Un kiss. Ti ricordi un kiss? No. Quando ti facevo... Mi dai un kiss? No. Vabbè. Vabbè. Vi salutiamo. Buonanattia. Buonanattia. Grazie.